Vacanze finite per la maggior parte degli italiani che già da ieri si sono messi in viaggio verso le grandi città. Rientro da Bollino Rosso sulla 3 Salerno-Reggio Calabria che sta registrando un aumento dei veicoli. Traffico all'altezza delle uscite di La Mezzia e Vibo-Valenzia. I rientri per il controesodo estivo quest'anno hanno segnato alcuni record rispetto al 2014. A renderlo noto è l'ANAS che ha sottolineato come il traffico sia stato maggiore di circa il 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le partenze dell'ultimo fine settimana di agosto sono favorite da una giornata all'insegna del sole e del caldo su tutta la penisola. Ad agevolare poi la circolazione e il divieto di transito dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22 di stasera. L'estate dunque volge al termine, una stagione che sarà ricordata per il caldo record, per l'aumento delle presenze turistiche straniere e italiane, ma soprattutto per il nubifraggio che il 12 agosto scorso ha colpito i comuni dell'Alto Ionio Cosentino mettendo in ginocchio Rossano e Corigliano.